Oggi andremo ad effettuare una somma oppure un conteggio basandosi sul colore della cella. Quindi se io vengo qui, copio il formato e lo faccio su questo 30, vedete che qui le informazioni, la somma e il conteggio sono cambiate appunto perché si basano sul colore della cella. Vedete questa colonna non è cambiata, ha cambiato solo il formato. Lo rifacciamo al contrario e ecco che è cambiato ancora. Come si fa a fare questo tipo di operazione con Excel utilizzando le formule di Excel? Qui ho basato una colonna d'appoggio dove in queste celle vado a richiamare una funzione che adesso vedremo a breve, che ho denominato numColor, che va praticamente ad estrarre il codice colore dello sfondo utilizzato nella cella. Quindi l'azzurro corrisponde al 20, il verde corrisponde al 35 e questo giallo che ho selezionato corrisponde al 19. Se io vengo qua e cambio il colore, ok, poi vengo qua e faccio un F2 e faccio invio, vedete che mi dice che il codice colore è 44, ok, quindi è cambiato. Quindi estraro questa informazione. Dopo cosa faccio? Faccio questa tabellina d'appoggio dove mi metto i colori giusto per avere riferimento a quale codice colore fanno riferimento e ci metto manualmente il codice colore di riferimento. Poi è molto semplice perché vado a fare un conta se la colonna BB è uguale a D2, ok, quindi il conteggio vado a farlo direttamente sulla colonna d'appoggio. Invece la somma faccio un somma se BB, ok, è uguale a D2, quindi dove trovo il 19 poi vado a sommare i valori della colonna AA, ok, quindi questo è semplicemente un conta se e un somma se molto semplice. Vediamo ora come estrarre il codice colore della cella, quindi abbiamo detto che dobbiamo creare una definizione perché se scrivo questa formula all'interno della cella di Excel non funziona, dobbiamo per forza di cose passare per le definizioni. Quindi si va sul menu formule e qui andiamo su gestione nomi. Qui troviamo già la mia definizione, quindi potrei fare nuovo oppure la selezione faccio modifica. Qui vediamo, adesso facciamo un po' di zoom, che ho definito la funzione numcolor, ok, quindi l'ho chiamata così, potete chiamarla come vi pare. Le ho detto che funziona in tutti i miei fogli di Excel, quindi in tutta la cartella di lavoro. Qui potrei selezionare che funzioni in uno specifico foglio se volessi. Una volta fatta poi si frizza, quindi non è più modificabile. E qua ci possiamo mettere un commento. Qua sotto cosa ho scritto? Ho scritto info.cella, se abbiamo l'Excel in inglese è get.cella, dopo vediamo un approfondimento alla fine. E qui ho messo il 38, quindi apro la tonda, metto il codice 38, che corrisponde ad avere in output il codice colore. Ok, qui ci sono molti codici che possiamo inserire, li vediamo alla fine che cosa si può fare. Poi gli dico, guarda, fammi il foglio di lavoro A2, ok, e mi dà il risultato. Quindi mi legge la A2. Questo perché? Perché io ho selezionato la cella B2. Se avessi selezionato la B1, quando vado a creare la formula, io avrei dovuto dirgli A1, ok? Quindi la creo proprio in questo modo. Lì ho messo il dollaro sulla A, così se poi sposto questa definizione verso destra, comunque lui leggerà sempre la colonna A. Invece l'1 non c'è il dollaro, quindi se io poi richiamerò la funzione non-color in questo caso, lui prenderà di riferimento il 2, la riga 2. Se la scrivo qui, prenderà di riferimento la riga 3. Ma perché ho scritto la formula tenendo cliccato su B1. Se fosse stato su C1 o su C7 avrei comunque dovuto specificare A7, ok? Perché appunto il dollaro funziona così. Se poi noi qui non mettiamo il dollaro, in base al riferimento in cui si trova in questo momento, poi lui scivola. Se qui avessi messo il 6, poi quando vado ad utilizzare num-color, ok, sarebbe scittato di 1 rispetto alla mia posizione. Quindi spero che questo sia chiaro. Quindi quando facciamo la definizione puntiamoci sulla riga in cui dobbiamo andare a fare questa cosa. Quindi scriviamo proprio info.cella, aperta 38, e selezioniamo la cella che ci interessa. Quindi andiamo qui e selezioniamo direttamente questa, ok? E lui la scrive. Quindi, fatta sta cosa, abbiamo fatto la definizione, basterà andare qui e scrivere semplicemente uguale num-color e lui restituirà il codice colore. Poi il resto è molto molto semplice. Che cos'è questo info.cella? Allora, andiamo a destra, facciamo un po' di de-zoom. E qui ho messo tutta la descrizione di come funziona. Praticamente, info.cella in italiano, get.cella in inglese, restituisci informazione sulla formatazione, la posizione e il contenuto di una cella. Quindi utilizzare get.cella per una definizione il cui comportamento è determinato dallo stato di una particolare cella. Quindi da proprio lo stato della cella. Com'è la sintassi? Get.cella oppure info.cella se è in italiano. Tipo numero, che dopo li vediamo qua sotto. E il riferimento che deve andare ad analizzare. Il riferimento è una cella o un intervallo di celle da cui si desiderano informazioni. Se il riferimento è un intervallo di celle, attenzione, viene utilizzata la cella nell'angolo superiore. Quindi se voi andate a dare il riferimento con un range così, lui comunque legge quella che è in alto a sinistra. Ok, è importante questa cosa. Se il riferimento viene omesso, viene considerata la cella attiva. Quindi in questo caso, se io non metto nessun riferimento sulla parte destra sul secondo parametro, lui leggerà la cella in cui io sono attivo in questo momento. Se invece glielo do, in questo caso glielo ho dato il riferimento di quella adiacente. Invece type num è il numero che specifica il tipo di informazioni sulla cella che vogliamo estrarre, perché la cella ha molte informazioni dentro a se stessa. Quindi vediamo degli esempi. Se io prendo get.cella 17, determina l'altezza della cella. Quindi avrò in uscita quanto è alta la mia cella. Se faccio get.cella 44 meno get.cella 42, determino quanto è larga la mia larghezza. Se faccio get.cella 20 e poi do il riferimento della cella che voglio analizzare, restituisce vero se la cella B1 del foglio 1 è in grassetto, quindi mi dice se è in grassetto. Vediamo sotto qui, vi ho messo tutto un elenco di quello che può fare questa funzione potentissima. Quindi ce ne sono tantissime. Riferimento cella assoluto, numero di riga, numero di colonna. Quindi possiamo ottenere anche il numero della colonna in cui ci troviamo. Quindi qua abbiamo le lettere. Con questa informazione potremmo ottenere il numero della colonna in automatico. Quindi ce ne sono veramente tante. Ci sono circa 65 opzioni, se non ricordo male, 66, che potete andare ad utilizzare. Quella che a noi interessa per fare la somma del colore è il numero 38, quindi colore di primo piano come numero compreso tra 1 e 56. Se il colore è automatico restituisce 0. Quindi il codice colore che ci verrà restituito è da 1 a 56. Non abbiamo tutta la scala di un milione di colori. In base al colore che poi noi andiamo qui a selezionare, lui ci dà un numero da 1 a 56. Quindi può essere che due tonalità che si assomigliano possano corrispondere allo stesso numero in uscita. Quindi fate attenzione a questa cosa. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto. Spero sia stata interessante per molti. Se così è lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale trovate il bottoncino abbonati qua sotto dove trovate un video che spiega tutto quanto. Altrimenti potrete supportarmi acquistando un prodotto dal Merchadansi con lo slogan BI4U. Business Intelligence per voi. C'è anche Excel4U, quindi sto facendo diversi loghi. ci sono tazze, cappelline, magliette, copricuscini. C'è veramente di tutto. Troverete sicuramente qualcosa che vi piace. Vi ringrazio molto per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima lezione. A presto! Ciao!